Giorgia Rossi, volto degli approfondimenti sportivi sui mondiali di Mediaset, ha già riscosso un enorme successo tra il pubblico. La bella 31enne, infatti, gestisce i collegamenti durante le giornate dei match, conducendo gli inserti trasmessi sulla nota emittente tra una partita di Russia 2018 e l'altra. Appassionata di calcio sin da quando era piccola, ha rivelato di essere entrata in uno stadio per la prima volta quando aveva 7 anni. Si trattava dell'Olimpico di Roma, a cui Giorgia è per questo molto legata. Inoltre, da ragazza, ha sempre lasciato perdere i bagordi del sabato sera, perché la domenica mattina doveva alzarsi all'alba per poter seguire le partite di calcio. È stato proprio durante i suoi studi in giurisprudenza che Giorgia ha cominciato a scrivere di questo sport per un giornale locale, per poi entrare a Roma TV, canale dedicato interamente alla squadra capitolina. Giorgia è poi passata a Sky e alla Rai, ma sembra proprio che Mediaset sia stato il passo decisivo per consacrarla al successo. Giorgia è infatti molto preparata, bella ed elegante, tutte caratteristiche che hanno già incantato coloro che seguono con fervore i mondiali. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel 2013 ha rubato il cuore di Miralem Pjanic, giocatore della Juventus. La storia però non è durata e ora Giorgia sta con Alessio Conti, a sua volta giornalista Mediaset e inviato in Russia per seguire i mondiali.